Ciao ragazzi, nuovo video riguardante il nuovo acquisto del Bologna, Michel Ebischer, centrocampista classe 97 proveniente dallo Young Boys. È un centrocampista sicuramente di esperienza, in carriera ha collezionato 194 presenze con 15 retti e una trentina di assist in carriera. È un giocatore sicuramente venuto in Italia per giocare. A Bologna avrà la possibilità di giocare al fianco di Svanberg, visto comunque l'infortunio di Dominguez e quindi sarà il centrocampista da prendere come alternativa ai vostri titolari. Può essere catalogato come settimo ottavo slot in una Lega 8 o come sesto slot in una Lega 10. Questo appunto è il nostro consiglio, chiaramente in sede d'asta non andate a pagarlo eccessivamente. Perché se è vero che un giocatore assolutamente di prospetto è comunque un centrocampista del Bologna. Ecco quindi ragazzi un breve video riguardante la presentazione di Michel Ebischer del Bologna. Vi invito a scriverci qua sotto nei commenti, a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e a lasciarci dei commenti riguardo a quello che pensate riguardo a questo giocatore e come vi muoverete al mercato di reparazione. Un grosso saluto da parte mia a Luca Di Leonardo e dallo staff di tuttofantacalcio.it è tutto. Buon fantacalcio a tutti. Ciao!